numero 5 la caraffa filtrante brita a luna è la soluzione perfetta per chi vuole bere acqua pura e sana tutti i giorni con una capacità di 2,4 litri e il filtro maxtra più integrato questa caraffa si adatta facilmente alla porta del frigorifero rendendo l'accesso all'acqua filtrata ancora più comodo e pratico inoltre il timer integrato sulla caraffa avvisa quando è il momento di sostituire il filtro garantendo sempre una perfetta qualità dell'acqua il prezzo davvero accessibile è un ulteriore punto a favore di questo prodotto che permette di risparmiare senza rinunciare alla qualità trovi il link di questo articolo in descrizione numero 4 brita flow è una caraffa filtrante che offre una capacità totale di 8,2 litri e una capacità di filtraggio di 5,2 litri garantendo acqua di qualità superiore per tutta la famiglia grazie al suo rubinetto è possibile versare l'acqua direttamente dal frigo senza doverla trasferire in altre caraffe inoltre il display intelligente ricorda di sostituire il filtro in base all'uso garantendo sempre acqua pulita e fresca un altro vantaggio è la prevenzione della formazione di calcare nell'acqua grazie alla sua tecnologia avanzata è anche facile da pulire e le ricariche del filtro sono incluse nella confezione acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 3 la caraffa filtrante brita style è indispensabile per chi desidera sempre avere acqua fresca e di qualità a portata di mano con una capacità di 2,4 litri è progettata per essere comodamente inserita nella porta del frigorifero occupando lo spazio giusto senza essere ingombrante grazie al filtro max tra più integrato l'acqua viene purificata da cloro calcare e altre impurità garantendo un gusto fresco e puro inoltre grazie al display intelligente non dovrai più preoccuparti di sostituire il filtro ti basterà seguire le indicazioni in base al tuo uso giornaliero e il gioco è fatto puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 2 brita marella è la caraffa filtrante perfetta per chi vuole godere di una fonte d'acqua più pulita e sana direttamente a casa propria grazie al suo sistema di filtraggio altamente efficiente questo prodotto garantisce di eliminare impurità e cloro dall'acqua garantendo un gusto migliore e più leggero inoltre il display incorporato segnala quando è necessario sostituire il filtro garantendo una maggiore sicurezza e igiene le ricariche incluse permettono di avere sempre un filtro pronto all'uso in descrizione trovi il link di questo prodotto numero 1 la caraffa filtrante brita elemaris xl è l'ideale per chi ama avere sempre a disposizione acqua fresca e purificata con una capacità totale di 3,5 litri e una capacità di acqua filtrata di 2,2 litri è perfetta per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia il design elegante la rende un complemento perfetto per la cucina mentre il sistema di filtraggio molto efficiente garantisce un'acqua di ottima qualità inoltre con una durata di un mese il filtro incluso è facile da sostituire è un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e pratico se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione